Gli spaghetti al tonno sono un piatto semplice e gustoso, molto diffuso per la sua praticità e sapore. Ingredienti. 400 g di spaghetti, 200 g di tonno sott'olio sgocciolato, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva quanto basta, 400 g di pomodori pelati, oppure passata di pomodoro, prezzemolo fresco e tritato quanto basta, sale quanto basta, peperoncino facoltativo quanto basta, un cucchiaio di capperi facoltativo. Metti a bollire una pentola con abbondante acqua salata per gli spaghetti. Nel frattempo, in una padella capiente, fai soffriggere l'aglio nell'olio d'oliva fino a quando non diventa dorato. Se ti piace, puoi aggiungere un po' di peperoncino. Aggiungi i capperi tritati per un tocco in più di sapore e poi il tonno sgocciolato. Lascialo insaporire per qualche minuto, poi elimina l'aglio. Versa i pomodori pelati nella padella con il tonno e cuoci il sugo a fuoco medio per circa 10-15 minuti, fino a quando non si addensa. Regola di sale. Quando l'acqua bolle, cuoci gli spaghetti seguendo i tempi indicati sulla confezione per ottenere la cottura che preferisci. Al dente è sempre la scelta migliore. Scola gli spaghetti e versali nella padella con il sugo di tonno. Mescola bene per far insaporire la pasta. Cospargi con prezzemolo fresco tritato prima di servire. Buon appetito! Ricorda di iscriverti al canale per rimanere aggiornati e visitare il nostro sito web per molte altre ricette. La ricetta degli spaghetti al tonno è spesso considerata un piatto di pronto soccorso in cucina, perché è veloce da realizzare e gli ingredienti sono facilmente reperibili in ogni dispensa. Ma con qualche tocco in più, come l'aggiunta dei capperi o un buon soffritto, può trasformarsi in un piatto da gourmet.